Sono Rigutino e Creti Farneta in provincia di Arezzo, le due località più papabili per la realizzazione della stazione dell'alta velocità Medietruria. Le altre ipotesi, chiusi Arezzo e chiusi Scalo, presentano qualche difficoltà in più. Questo perlomeno secondo lo studio realizzato da un team di tecnici delle regioni Umbria e Toscana, che insieme agli esperti di RFI già da un anno stanno esaminando il flusso potenziale di passeggeri nella zona, le caratteristiche morfologiche del territorio ed eventuali infrastrutture esistenti. Un lavoro iniziato nell'ottobre 2014 dopo l'incontro tra l'assessore toscano Vincenzo Ceccarelli e la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini. Ora poi che si parla con maggiore insistenza di creare un'unica regione, Tosco-Umbro-Marchigiana, l'idea di avere una stazione dell'alta velocità tra Roma e Firenze appare ancora più strategica. Penso che se dobbiamo pensare di mettere assieme la Toscana, l'Umbria e le Marche, cioè tutte quelle che sono le infrastrutture tarversali, che quindi creano una rete rispetto ai collegamenti longitudinali, hanno un grandissimo valore. Anche per la regione Umbria, che spera così di... Rompere quell'isolamento a cui storicamente la regione Umbria è stata purtroppo destinata, perché fuori dalle grandi direttirici nazionali in nord-sud. Secondo lo studio, la nuova stazione, che costerebbe circa 40 milioni di euro, avrebbe un bacino potenziale di utenti superiore a quella mediopadana, che a Reggio Emilia accoglie 1500 viaggiatori al giorno. A questo punto, dopo un confronto con gli amministratori locali dei comuni interessati, si aprirà un tavolo con il Ministero delle Infrastrutture.